Sì, sì, importantissima, puntavamo a essere miglior terza, ci siamo riusciti, abbiamo fatto una bellissima partita e questo è un piccolo vantaggio, come ho detto prima, però noi dobbiamo puntare a vincere ogni partita ai pre-off, quindi diciamo che il vantaggio c'è, perché facendo due pareggi passi, però è una cosa di secondo piano, noi puntiamo a vincere e dopo quello che sarà, sarà. Si sa che la cosa che conta di più è quella che viene il gruppo al meglio, i giocatori che stanno bene fisicamente e anche di morale, diciamo, no? Beh, play-off devi stare bene fisicamente e mentalmente, sono importanti, adesso recuperiamo tutti gli infortunati, tutti quanti, sono fondamentali per noi e quindi tutti saremo al massimo e saremo tutti quanti importantissimi per questi play-off. Ho pensato la domanda, te l'avamo fatta già. Non l'ha un po' protestata sul libro? No, no, il rigore è netto, mi ha incrociato le gambe da dietro, quindi forse... Ma là? Sì. Ah, non lo spraga? No, no, no. Non lo spraga, eh? No, no. Ok, dai dietro, devi andare. Quindi hai sentito il contatto? Sì, sì, da dietro mi ha incrociato le gambe, quindi il rigore è netto. Ne ho parlato anche con l'abitro, l'ha visto anche lui, infatti non c'è niente da dire. Come avete accorto all'esordio e incanto il bimbo? Non so se sei visto, ti troviamo per lui, si sta già allenando con noi da un po', meno male, si è messa bene la partita, ha fatto l'esordio importante, e pian piano cresceranno questi giovani che sono importanti per il futuro. Ha buona qualità? Sì, è giovane, ma ha delle buone prospettive, deve crescere, ma pian piano lo facciamo crescere bene. Ma poi abbiamo visto se è caldo, ha fatto proprio una scena sulla fascia, insomma... No, no, ha delle buone qualità, si vede un allenamento e personalità, va bene così, meglio per noi. Perché il giro di vittorio è un grande traccio, penso che sei soddisfatto? Sì, sì, penso che sono soddisfatto, forse... Sotto il gol! Vabbè, ma non sono mai stato un gol ad or, però sotto le prestazioni ho avuto un po' più di continuità e sono molto contento. No. No 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 Grazie per la visione!